Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare l'ultima partita di questa giornata di campionato, il big match di domani sera tra Milan e Napoli. Ieri sera la Lazio ha travolto il Genoa, anche se quella piccola scommessina sull'esito gol del Genoa è andata bene. L'Inter ha travolto la Salernitana, ma purtroppo il gol della Salernitana, vabbè, l'avevamo detto, c'era veramente poco da guardare su Salernitana-Inter. La Roma gioca tra pochissimo contro l'Atalanta, speriamo bene, perché ho paura che ci fanno cappotto, mentre domani sera c'è questo bel match tra due squadre che devono cercare di non far fuggire via l'Inter, perché altrimenti si mette male sia per il Napoli che per il Milan non fare il risultato in questo momento. Prima di cominciare, vi ricordo, visto che sta andando piuttosto bene la promozione natalizia, che c'è l'opportunità di avere un anno gratis di Superfoglio, oppure sei mesi gratis di Superfoglio, oppure uno sconto di 20€ sul minicorso Stats4Goal. Se avete seguito su Telegram, ieri abbiamo un po' giocato sul fatto che ci sono stati ben due utenti, la mattina uno, la sera un altro, che si sono abbonati fino al 2028. Cioè, erano già abbonati fino al 2025, hanno sfruttato la promozione di un anno gratis, quindi ne compri due e hai il terzo gratis, e si sono abbonati fino al 2028. Io e Viviana abbiamo l'account fino al 2030, quindi praticamente questi due sono diventati azionisti di Stats4Bets, praticamente, è come se ci fossimo quotati in borsa. Ci vediamo la sigla e poi andiamo a vedere Milan contro Napoli, anche per capire se hanno fatto bene a darci tutta questa fiducia. Eccoci all'interno del Superfoglio, ovviamente hanno fatto bene a darci fiducia, ma indipendentemente da questo pronostico di questa partita, perché come ben sapete, come ho sempre cercato di spiegare, non è una bacchetta magica, quindi la singola partita è ovvio che si può vincere, perdere, pareggiare, può succedere di tutto. Nel lungo periodo, fortunatamente, i risultati sono più che soddisfacenti, quantomeno per la maggior parte degli utenti, cioè chi decide di dedicargli un po' di tempo, mezz'ora al giorno, 20 minuti al giorno, non è che clicchi e vince lui da solo. Un minimo di studio gli va dato, quindi 20 minuti, mezz'ora al giorno, solitamente io per esempio non credo di dedicargli per scommettere più di mezz'ora al giorno. Trovo la mia singola, trovo 3-4 esiti che mi possono piacere per una piccola multipla o per un raddoppietto, e finisce lì, cioè sto a posto per un giorno, 3 scommesse sono più che sufficienti. Però ecco, gli va dedicato quella mezz'oretta, non è che clicchi, adesso apro, Atalanta-Roma, bam, gioco e vinco. Stavo notando, non so per quale motivo, ci mancano un po' di scudetti, l'ho notato anche sulla serie C, fatemi ricontrollare perché devo farlo presente a Viviana, stanno saltando tutti gli scudetti, a livello di funzionamento ovviamente non cambia nulla, però a me mi dà fastidio, anche semplicemente a livello grafico e poi per esempio, insomma, scudetto da Juve, ciò potrebbero anche far vedere. Vabbè, Milan-Napoli, andiamo a vedere cosa ci racconta questa partita. Già solo dalla parte arancione capiamo che ci sarà un po' da soffrire nel pronostico. Perché da soffrire? Perché innanzitutto lui dice rischia 1-2, che è quella configurazione in cui le statistiche sono, e le sottofrequenze, sono molto vicine tra di loro, quindi è anche difficile prendere una posizione sulla doppia chance. Quindi la 1x e la x2 sono un po' più basse, la 1-2 è o la seconda o addirittura la prima più alta. C'è la metrica della forbice, quindi vuol dire che le quote, adesso appena le vedremo, sono quote alte, ossia almeno 2 e 20 come quota più bassa, quindi è una quota alta, quota difficile. C'è anche la scala 1-2 che ci fa capire che la x è l'esito meno probabile, quindi vittoria dell'una, vittoria dell'altra, è più difficile trovare una favorita quando c'è la 1-2, perché ovviamente possono vincere entrambe. Quando c'è la sequenza 1x2 o 2x1 è più facile andare a cercare una favorita, magari anche coprendola con una doppia, perché l'esito di mezzo è la x. Questa qui è proprio la configurazione più difficile che potevamo trovare, è questa. Forse l'unica più difficile era invece che se over 1.5 ci dava multigol 1-4, quindi che ci faceva proprio capire che non c'era possibilità di studiare in maniera facile questa partita. Quindi partita che si preannuncia difficile. Vediamo, io vi assicuro che non l'ho aperta ancora, quindi la scopro insieme a voi e in effetti le cose sono come me le avevo immaginate, perché le statistiche sono molto vicine, 40-30-30. Le quote sono molto alte, 2.20, vi avevo detto minimo 2.20, infatti sta a 2.25, 3.10. doppia chance, anche in questo caso, come vi avevo detto, la 1-2 è la più alta ma è molto vicina alla 1-x, leggermente ma non di troppo più bassa la x2, quindi partita veramente complicata, con in questo momento unica nota positiva, l'allibramento verde, quantomeno non troviamo anomalie di allibramento, che però, in realtà, su una partita così difficile, se l'allibramento era anomalo era meglio, perché così ci sta dicendo che il bookmaker ci sta dicendo che se funziona la matematica del campo succederà quello che statisticamente ci aspettiamo. Eh, ma le statistiche sono molto equilibrate, quindi che ci sta di? Niente. Se invece era anomalo, potevamo dire, ok, non si verifica neanche la matematica del campo, oppure è più difficile che si verifichi la matematica del campo, e allora potevamo cercare una soluzione alternativa, non so, appunto la x2 magari, però partita molto molto difficile. Vediamo qui di cercare di cogliere qualche altro dato, sicuramente il Milan in casa ha un ottimo andamento, ma il Napoli in trasferta non è da meno, separate solo da due punti, periodo di forma, sicuramente tra le due è meglio per il Milan, che ha avuto la sua piccola crisi qui, con queste due sconfitte, poi ha ottenuto due vittorie, e poi ha pareggiato sul campo dell'Udinese, che comunque è sempre un campo ostico, è vero che ha pareggiato all'ultimo secondo, quindi anche a livello psicologico, ti dà un po' di valore in più, cioè se stavi tu in vantaggio, e venivi raggiunto al novantesimo, ti lasciava un po' di amaro in bocca, avendo evitato la sconfitta al novantesimo, secondo me ti dà uno sprint in più leggero. Il Napoli invece vive in questo momento la sua piccola crisi, perché dopo aver travolto la Lazio, praticamente ha fatto solo un punto, soffrendo col Sassuolo, facendosi recuperare, perché se non ricordo male, il Napoli stava avanti 2-0, e il Sassuolo l'ha ripreso, quindi in questo caso sprechi la vittoria, e psicologicamente un po' di scorie te lo lascia, perdi con l'Atalanta e perdi clamorosamente con l'Empoli. Quindi il piccolo favoritismo che vediamo per il Milan, 40%, quota a 2,25, un po' che scende, e non ce l'avevo fatto caso, che è clamorosamente, clamorosamente, questo ulteriormente ci dice che il bookmaker si affida alla matematica del campo, perché è clamorosamente identico alla quota reale allibrata, cioè voi considerate che il calcolo della quota reale allibrata che abbiamo attualmente nel superfoglio, è un calcolo veramente particolare, veramente complesso, prende dei dati, non è che me li sono inventati, però diciamo che ho fatto dei test per cercare di valutare anche l'ultima partita disputata, quindi in questo caso questo pareggio e questa sconfitta, ovviamente gli viene dato un peso diverso a tutte le partite precedenti, insomma c'è un bel lavoro dietro, quindi trovare la quota del bookmaker assolutamente identica alla quota reale allibrata, che per l'appunto ha pure dentro l'allibramento del bookmaker, a quote così alte è difficile, è veramente raro, quindi mi fa veramente pensare che il bookmaker ci sta dicendo capita la cosa matematica del campo, cioè capiterà la cosa matematica del campo, il problema di questo benedetto risultato matematico è che è un 40-30-30, quindi assolutamente difficile, tra la 1x e la 1-2, io andrei sulla 1x per questo ragionamento che faccio, allora la 1x ci copre al 70%, 69,6, la 1-2 ci copre al 71% quasi, ma c'è sempre l'1 di mezzo, cioè il valore del 2 è poco da solo 30%, quindi secondo me si sposta sulla 1x, ma è molto difficile, veramente molto difficile, andiamo a vedere quanti gol, se riusciamo ad individuarlo, ed è un'altra cosa clamorosa, il fatto di aver becchiato proprio, anche in questo caso, la quota matematica del campo, la quota reale allibrata, assolutamente identica alla quota attuale, allora, premessa, questo non è il mercato chiuso, perché la partita non è che è appena cominciata, e dici, ok, allora il gol a 1,67, l'abbiamo beccato identico, no, perché ovviamente la partita c'è domani sera, adesso è l'una e un quarto di sabato, quindi queste quote possono ancora assolutamente stravolgersi, vederle così uguali a quella reale allibrata, mi fa pensare che non ci saranno grandissimi stravolgimenti, secondo me, però ovviamente può assolutamente cambiare, ed è molto, veramente molto raro beccare, con la quota reale allibrata, la stessa identica della quota attuale, vediamo qui la situazione dei gol, il Milan segnano tutti e due molto, veramente particolari questi dati di queste partite, perché segnano tutti e due praticamente lo stesso numero di gol, guardate, incrociato, lo stesso numero, e subiscono lo stesso 0-88, ci starebbe l'esito gol, però dobbiamo anche tenere conto dell'importanza del match, quindi qualche gol in meno aspettarcelo, cioè valutare il fatto che la tensione di questa partita possa essere determinante a livello statistico, quindi far succedere un po' meno cose che statistiche, praticamente succederebbero, il gol era al 55%, che non è altissimo, purtroppo il gol al 55%, su una partita emotivamente così importante, secondo me diventa un elemento quasi invalutabile, perché 55% è appena appena buona come statistica, meglio 57-58%, però dici, vabbè, ok, voglio prendermelo il rischio, 55% lo accetto, 55% però match importante, match quasi fondamentale nella lotta a Scudetto, perché una delle due, se perde, resta un po' troppo indietro, quindi fattore emotivo che mangia un po' di statistica, perciò il 55% cala ulteriormente, se diventa 53-52% non significa che è no goal, significa che non si riesce a capire se è goal o no goal, cioè può essere tutte e due, quindi è ancora più difficile, e qui ultima quota che andiamo a vedere, e anche in questo caso molto vicina alla quota reale allibrata, non identica, perché se beccavamo pure questa è identica, veramente vuol dire che avevamo hackerato il sistema di pensiero del bookmaker, non è così, cerchiamo di avvicinarci il più possibile al individuare come ragionano i bookmakers, però insomma non penso che sia così facile hackerarlo, però ecco, c'è questo piccolo calo e questa leggera rialzata sulla quota reale allibrata, io onestamente, un po' come dice lui, andrei più sull'1,5% che non sul 2,5%, una cosa che faccio spesso quando ho questa situazione così, quota alta, statistica per esempio in questo caso, 47,23, non vuol dire niente, cioè, 47,53, non 23, 47,53 non vuol dire niente, perché non è un peso statistico rilevante per farti capire gioco over o gioco under, cioè è equilibrato, quindi può succedere sia l'una che l'altra, perciò in quel caso che fai, vai a vedere l'over 1,5% e l'under 3,5%, qui l'over 1,5% è abbastanza più alto dell'under, perché l'under è 63%, quello è quasi 75%, 12 punti di differenza, mi fanno propendere più verso l'over, mettiamoci sempre l'aspetto emotivo della partita, il peso emotivo della partita, anche se risucchiamo un po' di percentuale all'over 1,5%, resta comunque sempre un po' più alta, se vogliamo stare un po' più tranquilli, secondo me potrebbe andare sul multigol, multigol 1,3, perché secondo me il multigol 1,3 con questa ci tutela abbastanza, 1,3, 2,4, 3,5, allora fatemi ragionare un attimo, perché ultimamente stavo facendo questo ragionamento a L, quindi guardo 1,3, guardo il 2,4 e mi sposto sul 3,5, l'elemento del terzo gol ce l'abbiamo al 55%, 60, 52, perché ovviamente anche col multigol 3,5 c'è il terzo gol, secondo me è da over 1,5, perché 52 e 55 dell'1,3, 3,5 sono molto vicini e prevedono il terzo gol, ma anche per l'emotività del match, secondo me non si segnerà tantissimo, nel 2,4 ci rientra tutto, ma secondo me non ne fanno più di 3, quindi alla luce di tutto quello che abbiamo visto, io metterei 1x multigol 1,3, anche over 1,5 volendo, però diciamo che secondo me un gol è sicuro, non me ne aspetto più di 3, quindi multigol 1,3 per me va bene, 1x multigol 1,3, nei risultati esatti non sono d'accordo con questo, tendenzialmente non sarei troppo d'accordo neanche con questo, 2,0 mi starebbe bene, ma secondo me è più 1,0,1,1 come disamina, considerando che le quote sono alte, 2,1,1,1 allora 1,0,1,1,2,1 secondo me 1,1 secondo 1,0, terza scelta, per ultima 2,1 per il Milan, però secondo me Milan-Napoli finisce 1,1 con 1x multigol 1,3. Questo è tutto quello che ci avevo da dirvi su questa partita, spero che il video vi sia piaciuto, eventualmente lasciate un like e ci vediamo nel prossimo video.